Auguri da Comforto Artigianato Imprese, al nuovo Consiglio regionale, alla Presidente, alla nuova Giunta, affinché possano portare avanti anche i temi del manifesto per gli artigiani che avevamo visto prima delle elezioni, che è stato siglato sia dalla Presidente che da tanti consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, e che tra le tematiche necessarie per lo sviluppo del Comforto Artigiano, quali trasporti, lavoro, l'energia e la legge 949, tutte le agevolazioni che riguardano le imprese e tanti altri argomenti. Comforto Artigianato è propositiva nel nuovo percorso con la Giunta, si fa propositiva, l'accompagnerà affinché possano analizzare nel loro lavoro anche le proposte delle aziende.